Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Madre abbandonata da un miliardario del calcio, lotta tra topi e sporcizia. Tra due mondi divergenti, tra l'abbondanza e la deprivazione, si svela un racconto familiare dai contorni drammatici. Nel folto di un appartamento spoglio e impregnato di sporcizia, risiede Rocio Agudo Duran, una donna di 48 anni che sembra essere invisibile alla fortuna di suo figlio. L'acclamato attaccante del Sibiglia, Manuel Agudo Duran, meglio conosciuto come Nolito. In un'epoca in cui il mondo calcistico si piega ai riflettori e alla gloria, questa storia sottolinea il lato oscuro dell'immagine pubblica. Gettando luce su un abbandono familiare doloroso. Le pagine del Daily Mail si fanno eco delle sue parole, palesando il quadro struggente che Rocio è costretta a dipingere. Una spaccatura. Una ferita profonda si è aperta tra madre e figlio, alimentata da una feroce litigata telefonica che risale a un anno fa. Mentre Nolito scorre tra miliardi di euro, Rocio affronta la sua giornata con l'angoscia finanziaria, lottando per riuscire a tirare avanti. La distanza che li separa è diventata più grande della differenza tra il calore della casa e la fredda strada. Ecco che Rocio, in un atto di disperata speranza, rivolge un appello al suo figlio, sperando che la voce del cuore possa convincerlo a tornare al suo fianco. La storia di Rocio è una lotta incessante per risollevarsi, per cercare la luce dopo essersi trovata sull'orlo dell'abisso a causa dell'erosione delle droghe. Da momenti di prostituzione al carcere, ha trovato una ragione per andare avanti nei suoi gemellini, Candela e Jesus, di soli sei anni. Tuttavia, la paura che il baratro sia sempre dietro l'angolo è costante. Rocio descrive un ambiente inospitale, in cui i ratti e spazzatura sono i suoi compagni di vita più costanti. La battaglia è contro l'affitto che pesa come un macigno sulle sue spalle. La storia familiare, intricata e carica di emozioni, è intrisa di accuse incrociate. Nolito, nel frattempo, si è avvolto in un silenzio che ha fatto emergere solo da qualche rara dichiarazione. Lui non ha dimenticato il passato, condivide la sua gratitudine verso i nonni, figure fondamentali che lo hanno cresciuto. Tuttavia, la nonna Dolore si erge a sua difesa, sottolineando la scelta di Rocio di abbandonarlo da giovane e l'implicazione dei nonni nell'educazione di Nolito. La situazione è fatta di cromatismi sfumati, in cui le verità di ognuno si intrecciano, tra l'orgoglio di una madre e il riflesso di una fama collettiva. In questo intreccio di conflitti e di sconnessioni familiari, Nolito procede per la sua strada, spinto da una forza interiore che lo guida oltre le curve di questa cronaca. E mentre la fama del giocatore illuminerà ancora gli stadi, l'eco di questa vicenda rimbomberà nell'ombra. Ricordandoci che dietro ogni vittoria c'è spesso una trama complessa di relazioni e drammi umani.